Sicuramente ci sarebbero da fare dei lavori riguardo l'istruzione. Sì, perché un po' mi sono visti che hai un po' svegliere anche il popolo interno dell'istruzione stessa. Il mio pensiero è che o mettono una gerarchia più intelligente sulle cose che ci fanno male oppure aboriscono anche cose che ci fanno più male di quelle che invece non sono legate. Se fossi in passamento avrei otto ore al giorno di tempo per giocare a Russell. Pagare meno tasse, dovremmo pagare meno tasse, è chiaro. Lavoro, istruzione, vorrei qualche personaggio un po' più giovane, un po' più interessato. Sì, siamo sempre visti un po' soggetti un po' anzianotti. Cosa dovrebbero fare? Non cosa fare, cosa non dovrebbero fare? Eh, 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 prenderemo. Alla coppa anche mandavo 10 euro, tipo una volta, ma ormai non si rinuncia. Tutto a Firenze Stamice. Pagare, che andava a lavorare in Lazzara per quattro giorni. Lavorare in Lazzara per quattro giorni, no? Con contratto anche. Con contratto, devi essere anche molto contento, molto contento. Ed è legale, bello. E comunque finanziamenti alla ricerca. Ok, bene. Finiti il caffè. Un trasferimento, tutti, le pennelli. Lavorare in Lazzara per quattro giorni. Per quattro giorni. E quindi, e quindi per quattro giorni. E quindi, a tempo deve essere sempre più sensato. Ch наша volontà per quattro giorni. Quattro giorni. Quattro giorni. Grazie a tutti.